Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come chi mi segue sa benissimo, è un po' di tempo che non sto pubblicando video make-up. Sono andata un po' alla ricerca di prodotti da testare e quest'oggi testeremo insieme i nuovi prodotti di Kiko. Green Me, questo prodotto dovrebbe essere zero impatto con l'ambiente o comunque earth friendly. Sono stata un attimo soggiogata da questa cosa pro ambiente, quindi ho detto perché non provare questi prodottini Green Me. Allora, ho preso qualche prodottino per la base e per occhi, quindi oggi andremo a fare un po' un look completo. Ho comprato un po' di cosine per avere una prospettiva completa di questa linea ecosostenibile. Come sempre io che sbadata mi sono dimenticata le cose importanti, ovvero di invitarvi a iscrivervi al canale e a mettere like a questo video se vi è piaciuto per avere mille altri video di testiamo i make-up. Partiamo! Io ho già messo un primer e quindi andiamo direttamente con la BB cream che ho trovato. Andando verso l'estate ho detto, quale migliore occasione per non comprare una BB cream così questa estate? Stiamo un attimo più leggeri, no? Invece di farci un mascherone. Non so se era un problema del sito o se in negozio ce ne sono di più, ma io ho trovato soltanto tre pigmentazioni. Ho preso la più chiara che si chiama Honey e adesso la andiamo a mettere. La texture mi sembra bella corposa, ovviamente è un velo, però comunque secondo me riesce a coprire abbastanza le discromie della pelle. Per quello che necessita la mia pelle d'estate siamo proprio a cavallo se la nostra pelle richiede una coprenza maggiore. Diciamo che questa semplicemente lascia la pelle estremamente naturale. La cosa che mi piace è che comunque la pelle rimane abbastanza glowy. Adesso ne sto provando a mettere un altro po' e vediamo come si comporta, ma mi sembra che non sia niente male ragazzi. Not bad, questa BB cream direi che l'ho super approvata. Il colore va molto bene, ma vi dico la verità, alla fine anche se ci fossero solo tre colori, secondo me va bene lo stesso perché comunque si fonde molto bene con il colore della pelle questa BB cream. Sì sì, mi sento tipo un po' sanchista, non lo so, mi piace molto, mi piace molto. Non voglio andare a settare perché secondo me si setta da sola. Di correttore ne ho messo giusto giusto un briciolino per coprire leggermente l'occhiaia, però ho proprio intenzione di lasciare il look abbastanza naturale oggi. Facciamo un trucco estivo, nonostante il tempo di diluvio universale, non mi dia troppe vibes da estate, oggi ho deciso di crearmele da sola, le vibes estive, con questo trucco. Ora io ho comprato due prodottini, uno è un blush liquido che può essere usato sia per le labbra che per le guance, adesso andiamo a testarlo subito, e poi un altro blush, invece questo in questo caso in polvere, Coral View, quello liquido si chiama 01, ma ce n'è altri due colori se non sbaglio, e per quanto riguarda il blush ci sono due colori, questo un po' più corallo, l'altro invece un po' più rosato. Questo blush è anche leggermente perlato, e infatti volevo provarlo perché non avevo mai provato un blush perlato. Intanto andiamo a testare da questa parte il blush liquido, ne mettiamo così, vediamo. Forse va messo con la mano. Sono un po' confusa, voi vedete qualcosa? Non c'è niente ragazzi, ma proprio niente. Sono decisamente confusa e abbastanza rammaricata, perché mi aspettavo che un minimo, ma un minimo si vedesse. Qua c'è scritto lips and cheeks color, quindi dovrebbe funzionare sulle guance. Ovviamente per quanto riguarda le guance, questo prodotto super mega bocciato, che fail. Veramente neanche i trucchi di Shane che provai mesi fa ebbero un fail così clamoroso. Vabbè, proviamo a vedere se con il blush in polvere, risolleviamo un attimo il morale. Allora, leggermente, non so se lo notate anche voi, si vede, ma io sto abbondando come una pazza. Sarà anche che io ho una sorta di ossessione per il blush e quindi si deve sempre vedere molto. Cioè, oddio ragazzi, nel senso, questo si vede, non voglio lamentarmi di niente, però devi far mille passate, cioè con i blush che uso solitamente, mezza passata e si vedono. Come potete vedere, è anche bello luminoso. Questa cosa non mi dispiace affatto. Questo è molto approvato, però se si vuole un risultato molto naturale, perché io per farlo leggermente vedere, dato tre, quattro passate, che sono tante, eh, sono tante. Do un leggero contouring e poi torniamo alla ribalta con i prodottini. Vi dico, questa base non mi dispiace, è molto molto luminosa. Rendiamola quindi ancora più luminosa. Con l'illuminante, sempre della linea Green Me, questa è nella colorazione numero 101, Champagne Gold. Direi che ce ne sono due o tre sempre di colorazioni. Vediamo un po'. Mmm... Anche questo è abbastanza sottile, ma si vede ed è molto luminoso. Non mi dispiace per niente. Tiamo un po' anche sul naso. Arco di cupido anche che non fa mai male. Highlighter super approvato. Passiamo all'ultimo prodottino che ho preso, che è... Dan dan dan. Una bella palettina. Ce ne sono di due tipi. Una un po' più aranciata e una un po' più rosatina, fredda. Vediamo, vediamo, vediamo un po'. Prendo un pennellino piatto. Prenderò il colore centrale. Lo vado a mettere qui. Vediamo come funziona la pigmentazione di questi ombretti. Non mi sembra terribile, ma neanche una meraviglia. Molto naturale. Diciamo che questa linea può darsi che sia stata proprio fatta per essere... Boh, molto naturale, non so ragazzi. Però si vede tutto molto poco. Vabbè, ma noi insistiamo. Vado con un pennello da sfumatura a riprendere lo stesso colore. E iniziamo un po' a sfumare verso l'alto, sempre. Ora prendo il colore più scuretto e lo vado a mettere qua nella crease. E sfumo un po'. Sono un po' polverosi, eh, questi ombretti. Devo dirvi la verità. Mm, mm, mm. Mi sembra che scurisca solo, ma che non dia molta dimensione. Proviamo a prendere un pennellino più piccoletto. E andiamo con questo colorino qui. Però comunque si perdono un po' l'uno nell'altro, questi colori, eh. Il colore iniziale, voi lo vedete? Io non molto. Lo sfumiamo, anche questo qua più scuretto. Dal momento che lo inizia a sfumare, diventa un tutt'uno. Non rimane lì dove l'abbiamo messo. Non lo so, non lo so. Vabbè dai, più o meno ci siamo con quest'occhio qua. Al centro vorrei mettere uno di questi qua, shimmer. Direi che metto il rosato che c'è al centro. Oh, beh, questo è molto carino. Guardate che carino. E si vede, è un bel metallizzato potente. Con i brillanti in questa linea green me, ci è andato dentro. Li hanno fatti molto bene. Bravi. I really, 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 really like it. Andiamo con un altro pennellino piccolo. E voglio provare ad utilizzare questo argentato bianco più che altro. E metterlo ancora più al centro. Super mega centrale per dare proprio al centro centro dell'occhio grandissima luminosità. Anche questo mi piace moltissimo. Poi lo voglio mettere anche qua. Questo bianco fa un bel fallout in realtà. Però io sono una grande amante di brillanti. Quindi quando la faccia mi si consparge di brillanti, sono solo che contenta. Ora cosa facciamo? Andiamo a prendere il colore più scuro di tutti che abbiamo utilizzato. E vado nella rima inferiore dell'occhio. Così. E mi ricongiungo con la parte finale. Con un pennello da sfumatura andiamo a prendere questo che è un pelino più chiaro. E andiamo a sfumare tutta la situa qua. Mi piace molto. Molto brillante. Che dire di questa palettina qua. Questi tre colorini qua. Questo non saprei neanche come utilizzarlo. Devo dire la verità. Perché se già questo e questi combinati davano solo un po' di scuretto e basta. Se volete semplicemente uniformare la palpebra. Questo può anche starci. Questi due li approvo. Però niente che mi abbia entusiasmato più di tanto. Questa fila secondo me per un altro look magari in un'altra situazione sono validi. Io ho provato solo questo qua centrale ma questo anche scuretto mi intriga parecchio. Di tutta la palette secondo me la fila centrale è il pezzo forte diciamo. Perché questo dà una grande luminosità come potete vedere nell'interno del mio occhio. Questo anche dà proprio un tocco particolare al trucco occhi. Quindi secondo me dal momento che un ombretto dà questo effetto per me è già da promuovere. Tutto sommato mi sento di approvare questa palette. Niente di particolarmente pam pam, fuochi d'artificio, pazzie. Semplice palette. Alla fine il look finale degli occhi mi piace molto. Mi è piaciuta molto. Eccomi qui con il look praticamente terminato. Ho messo un po' di mascara. Ho fatto le sopracciglia. Adesso vado a mettere un filo di illuminante qua sotto all'arcata sopraccigliare. I really like it. Mi dà un po' quelle vibe bohemienne un po' abbronzata da mare con il cocktail. E adesso, tasto dolente, l'unico prodotto super mega bocciato di questa linea di prodotti che abbiamo provato oggi. Andiamo a vedere come si comporta sulle labbra. Ha una consistenza anche un po' strana, cioè un po' gelosa. Non lo so, non lo so. Proviamo. Non so se sono io che lo sto mettendo male. Io non so che dire. Questo è il fail più grande della storia. Ma in che senso rossetto e blush? Sono molto confusa. Non ha nessun senso, giuro. Non ha nessun senso comprare questo prodotto. Ok? Magari un ombretto poco pigmentato. Un rossetto che fa un qualche grumo. Ma questo non esiste. Se qualcuno l'ha già usato e ha funzionato, vi prego, commentate e ditemi come avete fatto a farlo funzionare. Magari sono io che non sono in grado di farlo funzionare. Sono molto confusa, ma comunque contenta. Perché nonostante questo sia un prodotto veramente scandaloso, scandaloso. Il resto dei prodotti mi è piaciuto molto. Tutto sommato, questa linea Green Me di Kiko la approvo un sacco. È molto carina. Poi è bellissima appunto l'idea di ecosostenibilità. Questo è il look finale. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like, come sempre. Io vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Vi mando un bacio. Vi saluto e ciao! Ciao!